13 mesi, 13 mesi che sono quelli del viaggio di Frodo e della compagnia dell'anello nel Signore degli Anelli. Avete capito che parliamo della serie tv del Signore degli Anelli, o meglio, probabilmente di tutto ciò che è successo prima del Signore degli Anelli, creata da Amazon Prime Video. Dire che c'è molta attesa è assolutamente un eufemismo. È uscita la prima immagine e allora cerchiamo immediatamente di decodificarla nel modo giusto. Parliamo allora di questa immagine, tra virgolette, misteriosa che Amazon ci ha regalato a 13 mesi dall'arrivo di questa serie tv anticipatissima. Lo facciamo con Alessio. Alessio, che tu sei un tolkieniano di ferro, per chi non lo sapesse, hai scritto anche l'articolo a cui vi rimandiamo su Lega Nerd, lo possiamo anche mostrare, no? Che hai scritto proprio con i dettagli, ma adesso noi lo affrontiamo in cinque minuti dalla nostra viva voce. Sì, la prima sensazione è proprio quella che il Amazon Prime Video voglia riprendere un pochino le emozioni e sensazioni che si sono trovate nella prima trilogia di Peter Jackson, più della seconda. Bravo, scusami se ti interrompo subito, ma bravo, hai detto bene. Il Signore degli Anelli, non Lo Hobbit, che sappiamo che c'è un rapporto un po' conflittuale. Sì, devo dire che è molto conflittuale, sia a livello di storia che anche a livello fondamentalmente di fotografia, regia e quant'altro. Sono state riprese un pochino, credo, le illustrazioni di Al-Ali e Jonau, che erano appunto gli illustratori storici della trilogia del Signore degli Anelli e anche de Lo Hobbit, e devo dire che la colorimetria è veramente vicina a quella che abbiamo visto appunto nel Signore degli Anelli. Chiaramente questa immagine ci ha fatto esplodere perché comunque ci dona una bella mappa di quello che potrebbe essere non proprio la serie, ma alcune puntate, perché sappiamo che probabilmente le prime puntate saranno un prologo, un grande e lungo prologo, si vocifera che sono puntate da un'ora e mezza all'uno. Infatti, se vogliamo iniziare appunto nel dettaglio di questa immagine, quello che ha fatto esplodere tutti i fan sono questi due alberi che si trovano appunto nello sfondo, nell'orizzonte. Quindi stiamo parlando di due alberi che compaiono nel Silmarillion, che sono Telperion e Laurelin, o sbaglio? No, non sbaglio assolutamente, sono due alberi leggendari ovviamente, bellissima la storia mitologica, sappiamo che Tolkien più che andare avanti sul Signore degli Anelli voleva creare un'epopea e il Silmarillion è soltanto un piccolo assaggio di quello che doveva essere l'epopea, perché sappiamo che poi è stato rimesso a posto da Christopher Tolkien, che appunto è il figlio. Questi due alberi sono alberi che donano la luce, simulano un pochino il ciclo solare, perché ogni albero ha sei ore di luce, dopodiché quando si spegne uno inizia l'altro. Considerando che li abbiamo visti molto vivi, probabilmente appunto questa immagine sarà parte del prologo, di quando appunto quest'era degli alberi era ancora viva, perché poi sappiamo che... Esatto, hai detto molto vivi, perché in realtà poi succedono degli accadimenti, che speriamo vengano mostrati, perché sarebbero davvero tanto tanto interessanti, che hanno portato a una morte, a una genesi, proprio a partire da questi alberi, no? Sì, esatto, perché io spero di sì, per tutti i fan, il Silmarillion ha un fantasy all'ennesima potenza, molto di più rispetto al Signore degli Anelli, perché sì, assolutamente l'oscurità di Melkor, che era appunto una divinità, diciamo che gli stava un pochino antipatico tutto questo potere di questi alberi, quindi decide di ingaggiare Ungoliant, che era la mamma di alcuni ragni grandi, tra cui Shelob, quindi che lo ricordiamo un po' nel Signore degli Anelli. Quindi quando si diceva che Shelob è figlia di buona donna, effettivamente è vero. Assolutamente sì, perché anche la mamma aveva, diciamo, delle accezioni un pochino non così pacifiche, quindi seguita appunto da Melkor decidono di distruggere questi alberi, però nella mitologia appunto tolkeniana, pensate quanto sia bello l'immagine di alcuni frammenti di questi alberi da cui riescono a ricreare la luna e il sole, cioè è meraviglioso, io spero che questa cosa si... Il fiore, no? Sì. Era il fiore di Telperion con l'ultimo frutto di Laurelin e creano... Creano il sole e la luna, esattamente. E dalla linfa, la linfa viene inserita in uno dei Silmarillion, che ovviamente sono tre gemme fondamentali nel Silmarillion, che magari anche quelle verranno identificate. Diciamo che questa prima immagine porta già con sé una messe di potenzialità, di fascinazioni, di racconti possibili che ti fanno spalancare la testa, no? Sì, assolutamente. Anche la città che vediamo appunto nell'immagine, probabilmente stiamo parlando di Tirion, che è appunto una città che è descritta... Sappiamo Tolkien quanto dedica la sua scrittura alle descrizioni, quindi ce la descrive in modo molto molto dettagliato, fatta in marmo bianco con una torre faro al centro. E qui la ricordiamo. Sull'articolo ho dato il beneficio del dubbio per cercare di fare un contrapasso, diciamo, e anche citare la capitale di Valinor, che ovviamente sono le terre immortali, dove nel ritorno del re alla fine vanno a riposarsi, diciamo, Gandalf, Galadriel, Frodo e Bilbo. Vediamo anche un po' di commenti, mettiamoli a schermo, perché si è scatenata la nostra utenza. Eccoli qua, allora. Gli alberi dovrebbero già essere distrutti da un pezzo, però. Hanno parlato di eventi ambientati durante la seconda era, e poi, se vogliono portare nella serie anche quelli precedenti, ben venga, sarebbe ora che mostrassero a tutti chi è Melkor Morgoth, che noi abbiamo appena citato, ed effettivamente è un big bad, cioè è un grande cattivo. Sì, probabilmente, per rispondere appunto al nostro follower, sì, questo sarà il grande prologo, e poi la storia credo che si sposterà un pochino più avanti, quindi dopo la distruzione della terra degli alberi, e da quello che ci è un pochino arrivato come indiscrezioni, parleremo molto della giovinezza, sia di Galadriel che di Sauron, quanto pare nella prima stagione. Sarebbe gansissimo. Sarebbe fortissimo. Cioè, si dice, nell'articolo smettite in titolo, e gli alberi della luce sono ancora in piedi, la serie sulla seconda era secoli prima della città dell'anello, e quindi dobbiamo smetterla con i titoli fuorvianti, ma non era fuorviante. I nostri titoli clickbait, esatto, però non è fuorviante, perché adesso non abbiamo un nome di questa serie, quindi la chiamiamo Il Signore degli Anelli, semplicemente perché aspettiamo. Secondo te, qual è sarà il titolo? Per amor di semplicità, dai. Infatti qui stanno facendo il toto scommesso sul titolo, secondo te quale potrebbe essere un buon titolo? Io credo che lo manterranno comunque del Lord of the Rings. Non possono prescindere dal Signore degli Anelli, perché è un brand troppo forte. Potrebbero chiamarlo Signore degli Anelli, la seconda era, ti faccio un esempio, se volessero chiamarlo, oppure seconda era, storie del Signore degli Anelli, cioè una storia del Signore degli Anelli, non lo so, però io credo che difficilmente prescinderanno. Sarebbe molto coraggioso comunque da parte loro se lo facessero. E quindi, come vedete, anche Mario dice, sono molto curioso di sapere come si chiamerà. Senza troppa fantasia mi piacerebbe un nome semplice, The Silmarillion, anche se, anche lui dice, parla solo della seconda era, Arda, Middle Earth, Second Age, ma secondo me anche qualunque sia il titolo, gli Anelli o il Signore, ce lo piazzeranno. Anche perché, se la diciamo tutto, allora Middle Earth si dedica soltanto alla Terra di Mezzo, il Signore degli Anelli, che in questo caso è comunque Sauron, entra all'interno della storia del Silmarillion, quindi tanto fuorviante non è comunque nemmeno questo titolo, quindi il Signore degli Anelli ci sta anche a Sauron. Grande attese per il Silmarillion, Tyrion, la città con la Torre di Faro. Esatto, come abbiamo detto. di primo acchito, dice Marco, ho pensato a Gondolin, la città costruita basandosi su Tyrion, perché ovviamente poi si passa a grandi dettagli, perché Valimar dovrebbe essere tutta d'oro, argento e Mithril, Tyrion di Parmo Bianco, come hai detto anche tu, quindi come vedete qui, le speculazioni partono veramente per la tangente. Sì, e poi l'ultimo dettaglio, non meno importante, è ovviamente questa figura in primo piano di spalle. Io ho ipotizzato un paio di nomi, di cui ovviamente il primo è Galadriel, dato che sappiamo che racconteremo della giovinezza, della dama bianca. Ovviamente i capelli lì non sono tanto biondi, sappiamo l'importanza dei colori dorati, di Galadriel, però potrebbero essere un pochino scuriti per anche una sorta di color correction. Potrebbe essere un uomo? In un'epoca in cui cambiano tutto, no? Esatto. Potrebbe essere anche di tutto. Sì, anche un uomo, perché comunque sappiamo che gli abiti degli elfi sono abiti molto eleganti, molto vicini a... Metrosexual. Esatto, esattamente, cioè ricordiamo che i vestiti di Herron sono quasi più eleganti di quelli di Galadriel, quindi insomma non ci vedrei male anche un elfo, un elfo uomo. Quindi ho ipotizzato una Yavanna, ma sarebbe veramente meraviglioso poter vedere su una serie di V le storie dei Valar, quindi delle divinità che hanno creato tutto il mondo del Signore degli Anelli. quindi però insomma con una piccola immagine ci ha dato veramente un grande... Tantissime suggestioni. Come hai detto te, se hanno voluto iniziare a dedicare il loro tempo anche un pochino alla Marvel e quindi dare veramente tutto che sia molto preciso, il fatto che è uscita 13 mesi prima come tutta la missione appunto di Frodo e Sam, insomma io non lo credo che sia stato così buttato là, il 2 agosto dopo a 2 settembre. Esatto, no ma dopo tutto parliamo di Amazon che comunque sullo streaming deve davvero ancora avere il prodotto definitivo. Abbiamo insomma una delle serie TV più dispendiose della storia. Io dubito che camperanno in aria le cose e credo che lo pianificheranno bene e la Marvel ha fatto scuola e credo che questi teaser che strizzano l'occhio al fandom che poi sappiamo quello del Signore degli Anelli è il più difficile di voi. Non voglio dire la Marvel e la DC Comics, aspettate di sentire quello del Signore degli Anelli quando arriverà la serie. È bello tosto, veramente bello tosto. Si ride, va bene Alessio. Grazie mille, grazie mille. E quindi noi salutiamo tutti i nostri spettatori, seguiteci su LegaNerd.com anche per tutti. Rileggetevi il Silmarillion, avete 13 mesi per recuperare tutto lo scibile sulle leggende che circondano il Signore degli Anelli e le opere che ne espandono, ne precedono la mitologia. E detto ciò, noi ci risentiamo con easter egg e curiosità al prossimo video, come sempre iscrivetevi, attivate la campanella per le prossime anticipazioni e da noi, lo sapete, solo roba buona, precisa e sicura. Ciao ragazzi. Ciao.